Musica Buonasera, ben ritrovati a una nuova puntata di Angoli. Oggi puntata di chiusura della settimana. Parleremo di un tema decisamente attuale. Parleremo di violenza sui minori, perché la cronaca di tutti i giorni ormai ci porta, ci racconta dei fatti costantemente. Però cercheremo invece in questa puntata di capire cosa si può fare per prevenire questo tipo di situazioni. Vi do subito intanto la nostra mail angolichioccioallespansionetv.it e adesso cominciamo subito con il presentare i nostri ospiti. Sono in compagnia di Angela Bracuto. Buonasera. Ciao, Flandra. Referente Lions Service Nazionale per quanto riguarda appunto il tema dell'abuso sui minori. e poi sono in compagnia di Luisella Ciceri, ufficio scolastico territoriale di Comune. Buonasera. Angela, iniziamo subito da te magari con una breve introduzione per descrivere chi sono i Lions, quali sono il tipo di attività che svolgete. Allora, il Lions Club International è l'organizzazione di club di servizio più grande al mondo. operiamo quindi su tutto il territorio per aiutare le comunità locali con varie iniziative. Quest'anno per quanto riguarda il territorio italiano ci siamo prefissati un compito molto importante e molto attuale che è quello di aiutare i bambini, i genitori e gli insegnanti a prevenire, se possibile, gli episodi di violenza, come dicevi giustamente tu, fornendo degli strumenti per riconoscere quelli che sono i segnali che possono esserci di pericolo. Quali sono le situazioni da riconoscere a cui bisogna stare attenti? Esattamente, anche perché noi crediamo fortemente che solo educando le nuove generazioni a rispetto verso gli altri e verso se stessi, che è fondamentale il discorso del rispetto, sta alla base di qualunque tipo di relazione che possiamo combattere concretamente il fenomeno della violenza. Tutti i Lions d'Italia si stanno attivando per intervenire nelle comunità locali e anche noi di Como, naturalmente, stiamo seguendo particolarmente questo progetto, collaborando con le scuole, collaborando con la polizia, come possiamo vedere dalla, citavi prima, l'evento che... Esatto, iniziamo col dire che il 18 marzo ci sarà questo convegno dal titolo Abuso sui minori e in cui interverranno membri appunto del mondo della scuola, della polizia, per fare insomma rete e cercare di dare intanto diffondere cultura relativa a questo tipo di problema e poi per dare informazioni di quella che è l'attività che intendete svolgere proprio a livello preventivo. Esattamente, esattamente. Io entrerei un attimino nel dettaglio su quello che è proprio il nostro programma, il nostro intendo. Ti dicevo, noi ci rivolgiamo ai bambini della scuola primaria principalmente, attraverso la scuola e le famiglie, con un programma, un piano di intervento che prevede di relazionarsi con gli insegnanti, e poi di questo parleremo bene con Luisella, con i genitori che devono giustamente avere degli strumenti, prima di iniziare la trasmissione si diceva di quanto è importante adesso con le nuove tecnologie cercare di riuscire, informare, informare su quanto possono essere sicuramente utili, positive, ma anche se gestite non correttamente, rischiose. No, no, facciamo un dialogo... I rischi del social network. Ecco, quali sono? Perché un tema attualissimo è proprio questo. Cosa dovrebbe fare un genitore per tenere d'ordine? Prima di tutto conoscere le potenzialità dell'oggetto, dell'ostrumento. Sicuramente i genitori non sono sufficientemente informati sulle potenzialità di questo strumento, come non lo sono neanche gli insegnanti, perché di fatto è talmente nuovo l'uso, l'utilizzo di questo strumento, che ancora oggi non si sa quali possano essere in una proiezione i risultati di un uso, come dire, errato, eccessivo di Facebook o di altri social network. Allora, che cosa facciamo? Io le posso dire... Esatto, qual è il ruolo della scuola in questo senso? E qual è poi il legame che ci deve essere tra scuola, genitori, istituzioni? Ecco, diciamo che la scuola non si è svegliata, perché è arrivata la convenzione di Lanzarote, che ci dice attenzione che ci sono problemi sui minori, attenzione, soprattutto prendete in considerazione il discorso del sistema informatico, ma la scuola già da prima ha sempre lavorato sui bambini, sui diritti ai bambini e tutto quanto gli sta attorno. Di fatto, con una norma che istituzionalizza il discorso della formazione e della informazione rispetto a quali sono i rischi sia dei minori sia dell'uso di questi strumenti, fa sì che la scuola si attivi in maniera molto più, come dire, programmatica. In effetti, il progetto presentato da Lion, secondo me, è uno dei più importanti e diciamo che va proprio nella linea che è richiesta dal Ministero della Pubblica Istruzione. Perché proprio a dicembre è uscita una direttiva, poi ne parlerà anche Paola, ne discutevamo insieme del Ministero della Pubblica Istruzione che invitava il Ministero degli Interni a rimettere in gioco... A ricostituire il comitato ministeriale contro la pedofilia. Esattamente. E di rimando, il provveditore scolastico regionale, cioè il dottor De Santis della Lombardia, dice alle scuole mettete nei POF, i POF sono lo strumento di lavoro, mettete nei POF attività che siano pertinenti a questa tipologia di problematica. Ecco, stavamo accennando appunto a quello che era il progetto dei Lions. In cosa consiste questo progetto di prevenzione nello specifico, poi nella pratica? Allora, prima di entrare nello specifico manderei la prima slide che vi ho portato che riassume il titolo del nostro service nazionale, che è appunto uso sui minori, una mano per prevenire e aiutare attraverso l'informazione, concetto fondamentale, e la sensibilizzazione. Abbiamo coniato, come vedete in fondo a destra, un logo che riguarda il progetto, la mano di un adulto, la mano blu che vuole essere la mano di un adulto, che contiene la mano di un bambino. Quindi una mano ai nostri bambini per aiutarli. Detto questo, informazione e sensibilizzazione, dicevamo. Allora, entriamo un attimino più nello specifico. Il nostro programma prevede chiaramente di incontrare preventivamente gli insegnanti per illustrare il progetto nel dettaglio. I genitori, perché ovviamente i genitori devono sapere cosa si va a fare con i bambini, ma soprattutto devono avere anche loro delle chiavi di lettura per poter agire correttamente. Anche perché poi magari entriamo in un secondo momento in questo argomento, non è sufficiente vietare determinate azioni. Si rischia paradossalmente l'effetto opposto? Anzi, assolutamente. Non andare in internet, non fare questo, assolutamente no. Ma aiutarli a capire come leggere la realtà in modo diverso e relazionarsi adeguatamente con i ragazzi è fondamentale. Sviluppare un senso critico riguardo all'utilizzo di certe tecnologie. Quindi allora svilupparlo con gli insegnanti, svilupparlo con i genitori, ma soprattutto svilupparlo con i bambini. La parte con i bambini è la parte più corposa e più delicata anche e fa leva su cinque concetti chiave. Ci tengo a specificare che questo progetto ha ottenuto l'anno scorso, ormai, alla fine del 2013, l'imprimatur del Ministero. Quindi siamo molto orgogliosi di avere questo riconoscimento della validità del nostro progetto. Allora, si fa leva su cinque concetti chiave, vi dicevo. Allora, il primo concetto riguarda l'autostima, perché è fondamentale imparare a valorizzare il proprio corpo e quello degli altri. A questo proposito io manderei una slide. Vi ho portato una foto di un episodio accaduto il 14 febbraio, se non ricordo, il classico caso di violenza in una scuola, dove però la cosa che a me ha sconcertato, al di là dell'evento di violenza, è che tra di loro i ragazzi hanno instaurato un certo tipo di rapporto con la persona che aveva poi avuto i problemi, aggredendola, dicendo che insomma aveva rovinato, denunciando il fatto, la reputazione di alcuni compagni. Cioè, ma ci rendiamo conto di quello che sta accadendo. Che è paradossale, invece di fare cerchi intorno alla vittima, si difende l'aggressore. Assolutamente, ma soprattutto perché ormai i nostri ragazzi hanno perso il concetto base di valore e dignità della persona. Sono concetti chiave sui quali noi intendiamo lavorare moltissimo. E di lì bisogna andare a monte nell'educazione. A monte, nell'educazione, è chiaro, perché anche fenomeni di violenza sulle donne, di violenza comunque di qualunque genere, nascono dal fatto che io non ho rispetto per la mia persona e per l'altrui persona, che è fondamentale. Quindi il valore e la dignità del corpo sono fondamentali. Quindi si lavora sull'autostima, per rispettare se stessi e gli altri, perché in primis devo rispettare me, sul conoscere il proprio corpo, riconoscere le differenze di genere, conoscere e approfondire i cambiamenti nella fase dello sviluppo, anche perché i bambini si fanno determinate domande. E se noi adulti non siamo in grado di dare delle risposte corrette, concrete, loro cercano le risposte altrove. Magari le cercano anche tra di loro e magari le risposte non sono esattamente quelle adeguate e corrette. Quindi è importante che venga data un'informazione chiara e da persone qualificate, competenti. Un altro concetto chiave sul quale si lavora, che a me piace particolarmente, è il tocco amico, cioè imparare a riconoscere la differenza tra... È un tocco normale quando c'è qualcosa che non va, però scusami se ti interrompo, siccome è una cosa che vorrei approfondire bene, proprio perché secondo me è il fulcro dell'aspetto preventivo del problema. Ti interrompo giusto un minuto per dare spazio alla pubblicità e torniamo tra pochissimo. Eccoci allora ritrovati, sempre qui stavamo parlando di violenza sui minori, lo facevamo in compagnia di Angela Bracuto dei Lions e in compagnia di Luisella Ciceri. Dicevamo Angela, per tornare subito al cuore dell'argomento, che uno degli aspetti fondamentali del vostro progetto è in generale del fare informazione riguardo a questo tipo di problemi e anche far capire al bambino la differenza tra un tocco amico e un tocco che invece non è normale. Un tocco positivo e un tocco negativo appunto. Attraverso alcuni laboratori, alcuni giochi che si fanno con i bambini, si è in grado di riconoscere, di far riconoscere al bambino quando c'è un approccio che può essere chiaramente di carattere positivo o di carattere negativo. Ma soprattutto che cosa si va ad insegnare? A come evitare i pericoli, cioè come riconoscere le situazioni che possono essere di rischio e quindi comportarci in modo adeguato, facendo dei giochi, delle simulazioni tra loro. La cosa molto bella è che i bambini lavorano in un clima molto sereno, in gruppo, con degli operatori competenti, adeguatamente formati e possono fare esperienza con i propri compagni, che è fondamentale, perché avere, come dire, se il sapere ci viene imposto dall'alto, non lo similiamo come se vissuto sulla nostra pelle. E poi capire l'importanza di chiedere aiuto, altro aspetto molto fondamentale, cioè capire che è importante avere una figura di riferimento a cui raccontare quello che ci accade, senza paura, senza imbarazzo, sono elementi decisamente fondamentali. Accennava prima a Luisella che il MIUR ha appunto deciso di ricostituire questo comitato interministeriale per la lotta alla pedofilia e invita proprio le scuole a sostenere questi progetti di prevenzione primaria. Quindi, diciamo, c'è un incontro tra quello che è il nostro progetto, il nostro intento, e quelle che sono le esigenze della scuola e del comitato. Io su questo, sulla protezione dei diritti dei minori da un punto di vista scolastico, ti darei... Ecco, appunto, che poi sarà anche il tema del tuo intervento al convegno del 18 marzo. Io inizierei col dire che è proprio la legge di ratifica del trattato di Lanzarote italiana, che è del 1 ottobre 2012, che stabilisce tassativamente che nella scuola, nella scuola primaria e secondaria, debbano farsi dei percorsi mirati proprio alla prevenzione e a un uso corretto dei sistemi, dei social network. Quindi già questo che è scritto in una legge dello Stato diventa un elemento fondamentale per il lavoro. Di fatto la scuola non si... Già l'avevo detto prima, non è che la scuola... Non è che si è svegliata adesso. Non è che si è svegliata adesso. La scuola reale è forse più avanti, anzi io sono convinta da insegnante, che sia molto più avanti la scuola reale della scuola legale. Perché spesso nella scuola si ritrovano quegli elementi che poi diverranno elementi molto visibili, poi come dire, presi in carico dal sistema. Però in luce stanno nella scuola. E il problema dell'uso di internet, dell'uso non competente di alcuni strumenti, la scuola l'ha già notato da un po' di tempo. Tanto che abbiamo chiesto anche i servizi sociali, dei piani di zona. I piani di zona sono delle strutture sovracomunali che si occupano di minori, finanziati dai comuni. E in alcuni casi abbiamo chiesto proprio interventi di formazione e informazione per i genitori in merito a questo. Come funziona questo tipo di passaggi? Nel momento in cui un docente, un insegnante, si rende conto che c'è qualcosa che non va? Qual è il procedimento poi? Da qual è l'elemento che avanza. Se si tratta di percosse o di violenze, allora si fa riferimento al dirigente scolastico, gli si dice, ragazzi, qua la situazione sta in questi termini, si partono con una serie di relazioni alla tutela minori. la tutela minori, che è un'organizzazione sovracomunale che si occupa appunto dei rapporti con il Tribunale dei minori, segnala al Tribunale dei minori e lì c'è tutta la procedura. Siccome è molto lunga, di fatto come tutte le questioni relative ai minori ci sono tempi molto lunghi, molto spesso siamo anche in difficoltà su questo. D'altro canto questo è quanto offre il sistema. Dall'altro lato, invece, nel caso specifico nostro è capitato un uso improprio di internet, hanno messo delle foto di alcune prof, siamo riusciti a convocare i genitori, scoprire, tra l'altro, bambini normalissimi. Cioè non è che è il bullo di turno che fa... Si riconosce. Persone normalissime, bambini normalissimi, che non sapendo la portata di questo strumento, hanno inserito delle foto che non andavano messe e che quindi hanno portato il corpo docente e la scuola, in questo caso, a ragionare un attimo e dire no, qui bisogna fare un intervento di un certo tipo, di formazione in formazione anche sui genitori. E devo dire che i genitori l'hanno presa molto bene, perché davvero si sta rendendo conto che è una cosa che gli scappa, che fugge di mano, perché non è conosciuta, non è conosciuta a sufficienza. Quindi gli strumenti per arginare le derive del fenomeno ci sono. La scuola risponde. Anche in questo caso il progetto che sta facendo Lions su Como è una risposta di altissimo livello, perché io non voglio gettonare un progetto piuttosto che l'altro, ma dietro c'è un gruppo di lavoro competente che ci garantisce un servizio di un certo livello e soprattutto non c'è il fine di lucro, cioè è fatto per beneficenza. E tutto quello che è fatto per beneficenza la scuola è apertissima a riceverlo, perché ormai i fondi sono quelli che sono. I progetti di questo tipo... Se ci sono iniziative valide che a maggior ragione vanno bene... Sicuramente ben vengano queste proposte. Sì, anche perché, ripeto, si inseriscono in quello che dovrebbe essere il progetto dell'offerta formativa. Quindi arrivare gratis a fronte di alcune offerte che alcuni gruppi possono fare dal punto di vista economico troppo elevati, un'offerta di questo genere va acchiappata al volo. Giusto per rendere un po' l'idea della situazione di cui stiamo parlando? So che avevi portato anche tu dei numeri. C'è una slide, la slide relativa... Ecco questa che stiamo vedendo. Qui emerge chiaramente che nel Nord sono i dati del Ministero degli Interni, però questi sono dati relativi proprio a case di bambini che hanno subito delle violenze gravi, maltrattamenti gravi, insomma c'è stata una denuncia. E emerge chiaramente il dato nel 2011 che il Nord ha una punta molto alta, 5.360 denunce di minori. Però dobbiamo tenere anche presente che il Nord ha una quantità di popolazione superiore rispetto al resto. Può essere dettato però questo numero anche semplicemente dal fatto, come dicevi prima, sono i numeri però dei casi in cui c'è stata una denuncia. Può essere che c'è anche una differenza tra Nord e Sud a livello di cultura, di sommerso, per cui non che al Nord ce ne siano di più rispetto che al Sud, ma che al Nord vengono denunciati, invece al Sud si tende a... Questo secondo me bisognerebbe chiederlo a un criminologo. Personalmente è una domanda molto complessa, fare statistiche su questo è molto difficile. Può essere... Sul Nord e Sud non entro nel merito, ma certamente questi dati sono di gran lunga inferiori a quello che è poi il dato reale delle situazioni di rischio. Perché sappiamo che le denunce sono purtroppo ancora poche. Di fatto, adesso sono state fatte delle proiezioni, delle statistiche che io non voglio citare per non... Vorrei essere precisa, poi aspetta la polizia a fare questo tipo di considerazioni e magari le faremo nel prossimo... Ci sarà spazio più avanti però indubbiamente il problema grosso è che la maggior parte rimangono non denunciati, sommersi. E questo è il grosso problema. Infatti, l'aspetto preventivo del vostro progetto è proprio anche quello di cercare di far emergere se ci sono situazioni di pericolo. Ma ti prevenire. Esatto, brava. Grazie, Luisella. Noi non vogliamo sostituirci o andare a fare la caccia al pedofilo piuttosto che all'abusante. noi vogliamo fornire ai ragazzi, alle famiglie, agli insegnanti quella che noi amiamo chiamare una cassetta degli attrezzi con degli strumenti che possono essere utili a prevenire. Perché se io conosco, comprendo, capisco i fenomeni ho degli strumenti che mi possono mettere nelle condizioni di non cacciarmi in determinate situazioni. Noi vogliamo proprio lavorare sulla prevenzione per avere chiaramente meno episodi ma soprattutto degli adulti migliori. Fammi qualche esempio. Quando ne avevamo parlato faccia a faccia era venuto proprio fuori l'esempio magari di qualche bambino che attraverso un disegno, attraverso delle domande che poi vengono in queste situazioni che sono di gioco si percepisce che c'è un qualcosa che non va o comunque che è una situazione ambigua. Ah, tu mi vuoi mi vuoi portare a dire come è possibile scoprire? Come è possibile? Perché poi alla fine anche per i genitori da casa in alcuni casi è proprio all'interno delle famiglie che c'è una situazione di rischio e pericoli in altri casi no e da genitore magari secondo me è la cosa che interessa di più capire come proteggere i propri figli. Qui entriamo in un campo minato perché ahimè purtroppo molte volte gli abusi sono familiari. c'è da dire che a livello di modalità di intervento noi entriamo in punta di piedi innanzitutto entra del personale assolutamente qualificato e non chiunque ci tengo a chiarire questo. Nel momento in cui si fanno ci sono questi laboratori a cui accennavo prima ci sono dei momenti anche ludici c'è la possibilità di fare dei disegni di avere un diario di scrivere è chiaro che i bambini all'interno di un semplice disegno per esempio ad occhi di persone di professionisti di esperti se ci sono delle problematiche di relazione in un disegno di un bambino vengono fuori immediatamente. Allora dovesse nel nostro percorso accadere una situazione del genere noi chiaramente ci limitiamo a fare una segnalazione non entriamo nel merito perché torno a dirti ci preoccupiamo di dare informazione informazione sensibilizzazione più conosciamo più sappiamo meglio possiamo prevenire da insegnanti da genitori e da bambini nonché da futuri adulti migliori io ci tengo a questo discorso del rispetto della persona per esempio se faccio ed è previsto questo un gioco con i bambini dove faccio capire a un bambino quanto è spiacevole avere il classico stato di bullismo l'atteggiamento che molti bambini hanno senza problemi credendo di fare anche simpatici quando provano sulla loro pelle che cosa significa essere preso in giro dal resto del gruppo scherzato o anche proprio toccato negativamente statisticamente si è visto che gli episodi di bullismo quindi parliamo solo di bullismo e non di abuso quindi non andiamo proprio nella parte più 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 drammatica i bambini capiscono quanto è negativo e si limitano e il bullo di turno una volta capito questo concetto abbassa la cresta perché dice mamma mia ma è terribile questa situazione perché i bambini comunque se opportunamente stimolati sono in grado perfettamente di mettersi nei panni degli altri di capire cosa è buono cosa non lo è è chiaro che bisogna poterlo fare questo e attraverso questo progetto speriamo di quello che ci auspichiamo noi vi auspicate voi comunque di riuscire a dare questi strumenti di analisi per riconoscere le situazioni di pericolo io purtroppo devo chiudere perché il tempo a nostra disposizione anche per oggi è finito però vi prometto prometto anche ai telespettatori a casa che torneremo a parlare di questo argomento ad approfondirlo ulteriormente ad approfondire proprio il tema della prevenzione ringrazio Angela Bracuto per essere stata con noi grazie ancora ringraziamo Luisella Ciceri per averci dato numeri e averci illustrato un po' la situazione e qual è l'aspetto scolastico importantissimo in questo tipo di situazioni ma non solo io vi ringrazio per essere stati con noi adesso diamo la linea come sempre al telegiornale noi ci rivediamo lunedì grazie a tutti grazie a tutti